Tre storie articolari, sono quelle di Gomes, Salah e Nero. È vero che abbiamo già in maniera un po' diversa da solito. Dentro l'organizzazione di squadra, che è di pensiero, la condivisione e la coesione del gruppo sono emerse, facendo anche lì, la rinforza, la rinforza, la rinforza, la rinforza. Quindi c'è una soddisfazione anche per questo. Chi per un motivo o chi per un altro, credo che tutti siano stati protagonisti, penso anche a Dilani che ha giocato un film di fattisica, ce ne sarebbero tante di storie dentro questa partita. Faccio un'ottimente a tutti i ragazzi, anche quelli che erano fuori dalla lista, perché erano partecipi con noi prima, durante le finalità dell'intervallo, ma anche a fine partita. Sono particolarmente soddisfatto e felice di guidare questo gruppo.